Gli addi di queste settimane pesano molto, ma noi siamo consapevoli che molte eccellenze sono rimaste ad Arezzo. Così il sindaco Alessandro Ghinelli e l'assessore alla sanità Lucia Tanti esprimono il loro sostegno e apprezzamento per il personale sanitario del nosocomio Arettino che recentemente ha registrato l'addio di figure professionali importanti come il chirurgo Bracarda. Proprio a chi decide di rimanere ad Arezzo, continua il comunicato, noi dobbiamo il massimo rispetto e la massima attenzione. Il Sandonato è un presidio ospedaliero che vede la presenza di personale medico e paramedico di grande professionalità in grado di offrire agli Arettini prestazioni importanti ed essere un'eccellenza. Il male della sanità toscana e Arettina, continuano Ghinelli e tanti, è casomai nel sistema impazzito voluto dalla regione e che noi intendiamo cambiare, non per partito preso ma perché il fallimento è un dato di fatto. Per questo abbiamo bisogno di tutti per costringere la regione ad un passo indietro su una scelta, la cosiddetta Aslona, che crea enorme difficoltà al personale e ricade sui servizi e sui cittadini.